Ciao a tutti, siamo qua al parco delle Busatte, vicino a Torbole, un parco molto strategico dove si possono lasciare pascolare i bambini da cui parte una passeggiata molto gradevole, non adatta ai passeggini, da cui c'è una splendida vista, rimane soleggiata anche fino a tardo pomeriggio ed eccoci qua Siamo arrivati e adesso siete pronti per la passeggiata delle Busatte? Non vuoi farla tu la passeggiata? Iniziamo bene, intanto facciamo il picnic Ti piace? Sei contento di essere venuto qui Pietro? Sì o no? Eh Ah Ecco il nostro picnic Ti piace fare il picnic? Voglio finirla tutta Tutta? C'è un mezzo litro? No? Che ti serve per il trekking? E cosa è il trekking? Il trekking è quando si va in giro a camminare e si fanno delle lunghe passeggiate un po' avventurose Ti va di farlo? Sì Stiamo per partire per un trekking meraviglioso Di qua Molto il po' fa uh che vertigine questa qui è la perseggiata delle busatte ci sono le scale ripidissime ripidissime però tu sei colaggioso e quindi non mi faccio niente esatto proseguiamo stiamo andando a tempesta ultima gradinata ripidissima secondo me l'ideale adesso sarebbe arrivare prendere il traghettino e puoi fare il pezzo a piedi vediamo con la barca che prende una barca bella addirittura il traghetto ed eccoci di nuovo torbole dovevamo andare a prendere l'autobus da tempesta però cosa è successo successo che praticamente siamo arrivati ci siamo ritrovati in tangenziale a parte gli scherzi non abbiamo beccato la coincidenza bisogna tenere da conto adesso bisognerà controllare anche la tabella degli orari cosa che noi ovviamente non abbiamo fatto siamo tornati scroccando un passaggio da due ragazzi simpatici che hanno avuto pietà di noi vero pietro e altrimenti avremmo dovuto fare un 5 minuti di camminata lungo la statale non bellissima soprattutto con i bambini per prendere l'autobus che passa ogni ora e ritornare qui a torbole per poi fare un altro 40 minuti tornare solo il busatto e prendere la macchina pertanto bella passeggiata da fare anche con i bambini però meglio non arrivare fino a tempesta ma semplicemente fare una camminata lungo il primo tratto la prima mezz'ora se d'accordo? e fare qualche scalinata panoramica un po' ripida divertente e tornare indietro in tutto ci abbiamo messo tre ore circa alla prossima paceggiata ciao 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 ciao